Ciao a tutti, sono Davide Milani di www.sottomarina.kite.it Come vedete in acqua non c'è più nessuno, ci siamo divertiti per tutta la mattina date a vedere così, peccato che non si è subruccato, perché poveriggio qua c'è il nostro Paolo che si diverte a quei paghi se non dovevate venire a fare un sero con il surf, oggi poveriggio a Sottomarina prima di avvento la testa, una bella passaggiata, va a fare un paese e via qua la situazione del mare per chi non fa più il bagno da un pezzo io vi mostrerò una cosa, sono con i piedi in acqua ok, da Sottomarina è tutto, passo in chiudo, seguitemi su sottomarinakite.it un saluto a tutti quelli che c'erano e un peccato per chi non c'era grazie